Estra Spa ha presentato oggi a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato telematico azionario, organizzato e gestito ovviamente dalla Borsa Italiana, ove ne ricorrono i presupposti sul segmento Star. Estra aveva inoltre già presentato a Consob il 12 marzo scorso la richiesta di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo. L'operazione prevede un'offerta al pubblico indistinto in Italia di un collocamento istituzionale riservato agli investitori qualificati in Italia e agli investitori istituzionali esteri.